Ciao a tutti ragazzi eccoci qua io sono AmadeRagostake Eccola qui la nuova truppa su Clash of Clans che verrà inserita nell'aggiornamento di fine marzo Allora ragazzi che cos'è questa truppa nuova? Come si chiama? Questa truppa si chiama il lanciatore Sarà ragazzi una nuova truppa nera disponibile per municipio livello 10 Sembra praticamente un troll con una roccia in mano, con una pietra in mano Allora vediamo adesso invece le statistiche di questa nuova truppa Come potete vedere danno splash ad aria Quindi lancia questa pietra e toglie danno a tutte le costruzioni 8 minuti per la preparazione e la velocità è di 14 Vediamo adesso invece un breve gameplay nella mappa single player Vi ricordo ancora che questa è una clip di Shift Path Vedete che il lanciatore lancia appunto questa pietra Che praticamente procede per una breve distanza colpendo tutte le costruzioni Non ha tantissima vita ragazzi però potrebbe avviare veramente una nuova strategia nel gioco Vediamo adesso ragazzi un po' più in dettaglio come si comporta questo nuovo lanciatore Shift Path praticamente decide di attaccare questa base TH10 con l'esalto E con la strategia dei golem mettendo indietro invece le nuove truppe insomma il lanciatore Allora vedete ragazzi che il lanciatore già lanciano queste pietre che sono veramente molto molto belle Anche esteticamente queste pietre tra l'altro sembrano che sembra che ci siano sopra Ci sono dei blocchi insomma di Elisir Sembra ragazzi una truppa che può veramente fare il devasto a distanza Chissà ragazzi che tipo di strategia si potrà creare insomma con questa nuova truppa Ad esempio non so un go bowler dato che in inglese si chiama bowler Golem più lanciatore potrebbe essere una cosa molto molto interessante Allora ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questa nuova truppa Se sicuramente vi piacerà vedere qui sul canale dei gameplay con questa nuova truppa Quindi fatemi sapere assolutamente qui sotto in descrizione Non si sa ancora se questo è l'ultimo sneak peek o forse no Vi farò comunque sapere molto molto presto E intanto ragazzi direi che per lo sneak peek di oggi è tutto E ne vedo l'ora di vedere come si comporterà questa nuova truppa ovvero il lanciatore Grazie mille per la visione e ci vediamo molto presto con un nuovo video Ciao ragazzi